Sura 69 Al-Haqqa L'inevitabile In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso L'inevitabile Cos'è l'inevitabile? Chi mai ti dirà che cos'è l'inevitabile? I Samud e gli Had tacciarono di menzogna al cataclisma Ma i Samud furono sterminati da un grido tremendo Mentre gli Had furono distrutti da un vento mugghiante, furioso Che Allah scatenò contro i loro per sette notti e otto giorni consecutivi Allora avresti visto quella gente riversa in terra come tronchi cavi di palma Ne vedi forse uno sopravvissuto? Anche Faraone e coloro che lo precedettero E le città stravolte commisero peccati Disobbedirono al messaggero del loro Signore Ed egli li afferrò con estrema energia Quando l'acqua dilagò vi caricammo sull'arca affinché esse diventasse un monito Ricordato da ogni orecchio che ricorda Quando sarà soffiato nel corno la prima volta E la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo In quel giorno avverrà l'evento E si spaccherà il cielo Così fragile in quel giorno Staranno gli angeli ai suoi orizzonti E in quel giorno otto di loro porteranno il trono del tuo Signore Sfilerete davanti ad Allah in quel giorno E niente di quel che celate potrà essere nascosto Chi avrà ricevuto il libro nella mano destra dirà Prendete, leggete il mio libro In vero sapevo che avrei avuto il mio rendiconto Egli avrà piacevole esistenza in un giardino elevato I cui frutti saranno a portata di mano Mangiate e bevete in pace È il premio per quel che avete fatto nei giorni passati Chi invece avrà ricevuto il suo libro nella mano sinistra dirà Ahimè, se solo non mi fosse stato consegnato il mio libro E non avessi conosciuto il mio rendiconto Ahimè, quanto vorrei che essa fosse stata definitiva Quel che possedevo non mi ha giovato affatto Ho perso il mio potere Diranno, afferratelo e mettetelo nei ceppi Quindi si è precipitato nella fornace E poi legatelo con una catena di 70 cubiti Non credeva in Allah, il Supremo E non esortava a nutrire il povero Oggi non avrà qui nessun amico sincero Né altro cibo che sanie Che solo i colpevoli mangeranno Lo giuro per quel che vedete E per quel che non vedete Questa è in verità la parola di un messaggero nobilissimo Non è la parola di un poeta Credetelo per quanto poco crediate E neanche la parola di un indovino Per quanto poco riflettiate È una rivelazione Venuta dal Signore dei Mondi Se Muhammad ci avesse mendacemente attribuito qualche discorso Lo avremmo certo afferrato per la mano destra E quindi gli avremmo reciso la orta E nessuno di voi avrebbe potuto impedircelo In verità questo è un monito per i timorati di Allah Sappiamo che tra voi c'è chi lo tratta da bugiardo In verità ciò sarà un rimpianto per i miscredenti Questa è l'assoluta certezza Allora glorifica il nome del tuo Signore Il Supremo